Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Pippa Review Ragazzi oggi video tema carnevale come avete potuto notare dall'incipit Allora oggi io e Pippa faremo un video molto molto Ah ma lo sapete il detto carnevale ogni scherzo vale? Noi l'abbiamo modificato In peggio ovviamente Cioè a carnevale ogni penitenza vale Ecco e quindi non faremo scherzi ma penitenze Ma chi deciderà che penitenze dovremmo fare? Il nuovo Nerf Micro Shouts Bravo ispirato ai personaggi del gioco più forte del momento ovvero Fortnite che Pippa ama Alla follia proprio Abbiamo solo questa perché Ma datemi la richiesta Praticamente abbiamo solamente questa qui in realtà ci sono tre modelli diversi Noi abbiamo il Micro TS Poi c'è anche lo scale leggendario che sarebbe la L Il Micro RL e poi il Micro Lama Però abbiamo trovato solo questo in edicola perché ragazzi sono già andati tutti a ruba E quindi se riuscite a trovare questo qui Che costa 12,99€ È un prodotto di Agostini Lo trovate in edicola E noi ragazzi ovviamente vogliamo anche gli altri due Quindi appena li beccheremo li prenderemo assolutamente Perché voglio finire E certo così abbiamo tutti i tre modelli Dietro c'è anche un fascicolo bellissimo che adesso vedremo più da vicino Questo fascicolo è veramente molto carino ragazzi Guardate qua aspettate parla Vedete ci sono dei giochi estivi quindi da delle idee Poi parla anche degli animali squalo bianco versus vespa di mare Ci sono dei giochini Che bello il pavone bellissimo Ci sono anche delle ricette Eccoli qua Perfetto Questi qua sono i tre Oh che bello quello Lama No Che bello L'SPG Noi abbiamo questo qua Fallo vedere Pippo Tadà l'abbiamo aperto Eccolo qua Più due colpi Bravissimo Più due Dardi Perché Più due Dardi bravo Infatti come potete vedere ogni blaster include due Dardi Bello Lama Poi bellissimo L'hanno fatto bello Poi qua fa vedere funzionamento Bellissimo E la cosa bella è che non servono batterie Quindi il top E poi vabbè ancora giochini soluzioni Perfetto Io direi Pippo di iniziare la nostra sfida Ok siamo pronti Praticamente faremo tre penitenze a testa Quindi sei in tutto Tre round Incomincia Pippo Incomincia Pippo Incomincia come si carica Prima di Partire Allora prendete il vostro colpo Lo inserite Poi questa levetta In giù Che c'è sotto Lo mettete Aspetta In giù Ok Lo mettete Ok Lo mettete in giù Adesso E poi spara Pippo inizi tu Dai ti do questo onore Vai Ce ne sono otto Quindi noi faremo due Bravo Bene direi che per il primo Hai una mira fantastica Dai Rina Non parlare tu Voglio vedere poi Eh vedrai dopo Vabbè è uscita la voce brutta Vabbè Ragazzi l'ho rotto Sto bicchietto Adesso Bravo Ok Davvero Scusa Aspetta che non lo prendi No dai Non prende l'indigno Uno rosso Chiedi che non lo prendeva Chiedi E prendo il bicchiere Vai c'è preso il bicchiere Vabbè ma chi se ne frega Il bicchiere Ok Adesso leggiamo le penitenze Ragazzi vediamo perché la prendo Vai Leggo io Leggi tu per primo Allora Vediamo Fatti disegnare i baffi dall'altro Bello Mi piace A me Mi dispiace Vediamo io Io ho paura Metti un dito nel naso dell'altro No No Non è un baffo Non è un anno No ragazzi però Sempre io le cose peggiori Ma perché E io le cose migliori Allora Ho iniziato Comunque decido io Per quanto stai Con le dita nel mio naso Dieci secondi Sì poi Dieci secondi Dieci secondi Eh però poi se ti capiterà una cosa Che Che tu devi far su di me Anche lì eh Ecco Vediamo Deciderò anche io Sì poi la cosa peggiora Ti è capitato a te Dai inizio a farti i baffi Fermeli bene Eh girati bene verso di me Non siamo Verso di me se giro di là E non c'è la Sì La francese Si ferma Non puoi ridere Tipo io ti voglio Non ridere Perché sei nella guanciotta Non ti girare Il risultato finale Lo vedete alla fine ragazzi Vedrete le qualità artistiche Ok Aspetta Sono bellissimi Pippo C'è uno specchio Da grande E poi te li farai così Ok Stai venendo Uno specchio Vai Dammi uno specchio No Dai Vabbè te lo prendo Mentre tu ti fai vedere Ragazzi guarda Sei bellissimo Sì che sei bellissimo Guardati un po' Sono case one Cioè guardati lì Lui si stava già guardando Io stavo cercando lo specchio Monello Non stiamo male Eh vero Eh Sei molto Francese Poi con questa bellissima Eh molto elegante Adesso tocca a me Sono pronto Tina Posso dire una cosa Sui baffi Sinceramente Ha più uno scherzo Che una penitenza Sinceramente Il buffettino Eh ma feo Beh però avere i baffi C'è anche una cosa bellissima Non me lo sono soffiato Vabbè Quindi Dai Schifo Non è giusto Guarda Mi fa senso anche a me Me L'infilo io a lei No 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 Lo faccio io No No di migno No Il pollice Madonna Che narici hai Il mignolo No No Mi fa schifo Ah te Allù fa schifo Dai gira No mi ha mai fatto Girati Devi contare però No no 10 secondi No 5 No 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ragazzi Spero che mi capita qualcosa Che si abbina a questi baffetti Ok vai Vippo Comunque ragazzi No ve l'abbiamo detto Aspetta a tirare Vippo Ma vincerà Ovviamente Chi subirà di meno Comunque O chi dovrà fare le cose Meno peggiori Allora Quanto ci riesco a mettere Che adesso Eh liscio Quello che voglio prendere Guardate Et voilà Semplicemente Vai Vippo Dammino Perfetto Tieni No Non c'è io Lo tengo Adesso Vabbè non è caduto Però quello Maledizioni Colpiscila Ok Dai vediamo Questa volta Leggo prima io Allora Fatti fare il solletico Per due minuti Ma no Vabbè Meno però Non è una cosa Che devo fare io Positivo Vai No è negativo No ma aspetta Devi prima leggere anche il tuo Ma ragazzi Ma è negativo Subire il solletico Per due minuti Quindi è una cosa Negativa Sì Vabbè No nel senso che Non devo far cose Dio un favore Vai Scrivi ad occhi chiusi Il tuo nome Sulla fronte Dell'altro Sì Ma cosa subisco Sempre io Sì appunto Ah ma Pippo Non è due minuti Venti secondi Quello male Perché è scritto male E quindi Ho letto La cosa sbagliata Chi è che conta io Meno male No conta mamma Comunque sarà mamma A dirci lo stop Mamma fai più secondi Va bene Su da ragazzi Pippo dirò io via Quando dirò via E che siamo venti Non un secondo di più Va bene Non preoccuparti No 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 Allora Pronti Partenza Via Pippo Pippo Basta Stavolta Stavolta Tina Non è finita Ad occhi chiusi No lo devo scrivere Sì Ad occhi chiusi Ah Mì no È vero Me ne ho perso Stacosa Vai Aspetta Però ti dico Io se sei sulla fronte Posizionati sulla fronte Poi lei Tapperà Ok Chiudi gli occhi No Chiudo io Vai Ragazzi Sì ma perché Io spero che al prossimo No sto scrivendo Filippo No che è più lungo Devi scrivere Pippo Cioè io non ho parole Lo fai apposta Ma perché stavo Tavolta Gli occhi chiusi Anche io Vabbè È finito Lau Buona Lei non mi vedo Aspetta Sembra Ha scritto In nostro goto In cirillico In cosa No No lo devo fare bene Aspetta Ho fatto uno Sì ma scrivete più grande La prossima volta Cioè io non ho parole Ma Mai non ho parole Ma è stato Vabbè Sì sì Voglio farci No Non puoi Non puoi Non puoi Non puoi Non puoi Non so anche io Ti amo Ma basta Boh Facciamo sto terzo round Ragazzi Non la pazza Su tre Sono andati Benissimo Per lui Spero che me l'ha detto L'ultimo Anche per te Tina Dai andiamo Vediamo Ragazzi Ultima round Speriamo che mi vada bene No 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 Gufiamo ragazzi Dai Gufate tutti In questo momento Votate per Team Pippo Team Tino Non l'hai preso Ragazzi Sperate bravi Continuate a gufare Continuate Che no Non l'ho preso Ancora Vai vai Guardate cosa faccio NACCO Ok Adesso tocca a me Dammi No scopro Tu recupera il tuo biglietto Mi dicevo il bicchiere L'hai fatto andare lì Ok Dai Questa volta anche il rosso Questa bene il rosso Dai Ok Dai apriamo Apro io per primo Quindi per primo Hai letto tu Apro io Tina Coriandoli in testa All'altro E ci sto Cioè E tu Suona le lingue di Menelik Nell'orecchio dell'altro Sì Ce l'ho fatta Quante volte Le volte che voglio No cinque Tre volte Tre volte Così non diventi solda Va bene Non funzionano tanto Ok Andiamo a prendere tutto Allora Sì A me mi servono Coriandoli E basta La tiranti in testa Io li lancio tutta la busta No No scherzo Tina Sono pronta Nei capelli Nei capelli In testa C'è scritto Festa Ok basta 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 No basta Sono pieno Basta così Basta così Adesso devi subire Adesso lo tengo Prima cosa Cattina Dai toccanè Oh me lo manco Io ho subito Sto video No aspetta Non forte No ma va Vai Io mi tapo Un pochino orecchie Così No Nell'orecchio dell'altro Mamma posso No Non puoi tappare Vai Due Due Ce la facciamo Oh Aspetta che se Ok Ok ragazzi Direi che ci siamo divertiti Veramente tantissimo Soprattutto io perché ho vinto Dai ho vinto Eh Io ho subito tutto Come si fa Quindi ho perso Anche questa challenge Comunque fateci sapere Se vi piacciono questi video Di carnevale Ne faremo altri Qua c'è un coriandolo In punta al suo capello Ah bene Ok Fantastico Ok Quindi ragazzi Mi raccomando Se vi è piaciuto questo video Mettete Un bel pollice in su Se siete nuovi Scherzo al nostro canale Così vi ho fatto altri video Cogliete questo video Con i vostri amici E lasciate avanti E c'è da mamma Puff Bravissimi appunto Lasciateci benissimi commenti Come fate sempre Noi vi ringraziamo tantissimo E quindi saluti da Da No Non voglio tenere con me Vai Da Tina e Fimo e Lucio Al prossimo video Ciao Ciao No Tinta 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 Tinta